Il problema dell'intolleranza verso l'omosessualità mette l'Italia agli ultimi posti della classifica tra le nazioni emancipate. Difficoltà relazionali, violenze verbali, bullismo, sono tutte cause di atteggiamenti che ancora obbligano tante persone a celare la propria sessualità. L'associazione Andos allarga i propri confini per l'evidente necessità di assistere tutte quelle persone che subiscono in silenzio le conseguenze di un razzismo ormai senza spiegazione. Sono centri antiviolenza specifici nella comunità LGBT che mira il proprio obiettivo all'interno delle coppie omosessuali. Non solo si allarga poi a macchia d'olio, anche all'interno della violenza familiare nel momento del coming out del figlio gay o della figlia lesbica che dice ai genitori. Quindi è un supporto che noi andiamo a dare sia nell'ambito delle coppie che cominciano a essere numerose sia nelle nostre regioni che anche in tutta Italia, ma un supporto anche laddove va ad intaccare il nucleo familiare per poi allargarlo anche alla violenza nel mondo del lavoro, alla violenza nel mondo della scuola. Nelle testimonianze riportate dagli operatori dei centri antiviolenza anche le storie che identificano la famiglia come luogo di intolleranza e razzismo. Un limbo di solitudine davanti a un pregiudizio che purtroppo spesso porta gesti estremi e allora Pescara si schiera a difesa di questi casi. Amate i vostri figli, capiteli, parlateci, non attaccateli con una moralità che non trova, sono comunque carne e sangue della vostra stessa sostanza, quindi non è giusto, gay e lesbica non si diventa, si nasce, è una vostra creatura, un figlio è la vostra creatura, quindi non utilizzate violenza ma utilizzate solo l'amore che un padre o una madre possa dare al proprio figlio.